E' un bacio da uno sconosciuto Sii! Ci piaccia! C'è il numero di telefono Di almeno 10 ragazzi Aaaaaah I classi e le altre Ma ragazzi Te la vuoi di più? E' un bacio a me E' un bacio a me Sì Baccare E' un beccare Una bando Eeeeeee Eeeeee Non lo posso dire questo Lo calcio Il sedere a 5 ragazzi Eeeeeeeh! No, no, no! Il re! La linea è simplicata! Siiii! Oddio, Sergio è trollato! No, Sergio! Sergio ha avuto un troll emotivo! Vai dai, voi! Ci manca quasi uno! Ci manca uno! Leggi, leggi! Aspetta che devo fotografare te! No, aspetta! Poi io ne metti il seno senza lasciare te! Eeeeeeeh! Sì, 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 lo faremo! Li devi fare tutti, eh? Vai! Arriva anche Anika! Anche l'Anika si tratta! Eeeeeeeh! Oh!